E ci raccomandiamo all'intercessione materna della Madonna, lei che lo ha schiacciato sotto i suoi piedi. Nel libro del Genesi noi troviamo questa bella immagine di Maria, di questa donna che schiaccia la testa al serpente. Lo tiene sotto i suoi piedi. E Padre Pio diceva, stagli lontano perché il diavolo è un cane legato a catena. Non avvicinarti troppo. San Filippo Neri diceva, da certe tentazioni del demonio noi dobbiamo solamente fuggire, dobbiamo scappare. Se poi prendiamo il libro dell'Apocalisse, quando c'è quella grande lotta tra la donna vestita di sole e il dragone rosso, è la lotta di Maria, madre della Chiesa, la Chiesa che continuamente lotta contro questo essere cattivo, invidioso, divisore. Ci raccomandiamo all'intercessione della Madonna e di San Pio, chiedendo a loro l'aiuto, l'intercessione, e che mai il Signore possa toglierci la mano dalla nostra testa. Amen.